Salve, un cordiale, benvenuti a tutti voi amici di Amico Libro che vuole dare qualche espressione, manifestazione, invito alla bellezza. Dalle Dioniane di Bologna, di Primo Mazzolari, riconoscerete la collezione che stiamo presentando a mano a mano. Questo è uno degli ultimi volumi, la collezione è praticamente conclusa o quasi, Zaccheo, edizione critica a cura di Mario Gnocchi. Nella presentazione, come sempre, è giusto e doveroso, la figura di Don Primo Mazzolari, le difficoltà avute sia con il regime politico fascista, sia con la Chiesa, le censure, le elaborazioni di questo testo che nasce come collaborazione a una rivista a puntate e poi diventa appunto volume. Ci si può arrampicare sopra un sicomoro per vedere il Cristo che passa, non sulle spalle della povera gente come fa qualcuno per darsi una statura che non ha. Chi vuol venirmi dietro prenda la sua croce, un arnese che il povero non fa fatica a trovarselo sulle spalle. Sempre pronto ad accettare con passione un impegno, scrive Don Primo Mazzolari. E da Carocci, nella bella collezione Frecce, Francesco D'Assisi, storia, arte, mito, a cura di Marina Benedetti e Tommaso Subini, quindi sono molti interventi che abbracciano, come dice bene il sottotitolo, la vicenda di Francesco, la storia, l'arte, il mito. Capite la ricchezza di questo volume che si avvale naturalmente anche dei fioretti. Venendo una volta Santo Francesco da Perugia a Santa Maria degli Angeli, con Frate Leone a tempo d'inverno e il freddo grandissimo fortemente li cruciava, chiamò Frate Leone, il quale andava un po' innanzi e disse così, oh Frate Leone, avvenne a Dio che i frati minori in ogni terra diano grandi esempi di santità e di buona edificazione, niente di meno scrive e nota diligentemente che non è Ivi, perfetta Letizia. E poi le immagini, le storie, la presenza di Francesco anche nelle monete, un aspetto particolare, particolarmente interessante, e andando avanti le immagini che accompagnano la sua vicenda e le lezioni che possiamo imparare, lo sfruttamento, dobbiamo dire anche, dell'immagine di Francesco d'Assisi tra D'Annunzio e Mussolini. Già nel 1908 Gabriele D'Annunzio, nel pieno del suo francescanesimo antifrancescano, come amava divertirsi il Vate, immaginava la transcodificazione cinematografica del laureo leggendo di San Francesco, cosa che poi non avvenne. Tutto il volume, vedete, è illustrato con esempi di composizioni musicali e qui ancora un'immagine a Fratello Sole, Sorella Luna, un film famoso, poi ancora le composizioni poetiche e non può mancare il cantico delle creature, altissimo onnipotente e buon signore, tua solle laude, la gloria e l'onore ed ogni benedizione. E poi andando avanti ancora, immagine, Emilio Ghione interpreta San Francesco, fotogramma dal poverello di Assisi, di Guazzoni, siamo nel 1911, è la tavola Bardi con al centro Francesco. E poi sono ancora i volti animati di Francesco e sono le raffigurazioni del presepe, per esempio, e ancora devozione e propaganda Francesco, il più santo degli italiani, il più italiano dei santi. da Olski, le chiese di Monte Follonico, arte e storia, a cura di Enrica Neri, Lusanna. Vediamo queste chiese di Monte Follonico nel territorio, nell'ambiente, la loro storia, naturalmente i personaggi, sia i vescovi, sia i principi, i duchi che hanno avuto delle relazioni, che hanno fatto delle donazioni, delle concessioni per questo ambiente, per questa comunità. E poi naturalmente soprattutto i manufatti, d'arte, quadri, statue dedicate sia alla Vergine e ai Santi, sia in particolare appunto a queste devozioni locali. Da Iacabuc, ancora un bel volume, di Raimond Ursel, grande storico dell'arte, e Leo Moulin, i monasteri fecero l'Europa partire dalla sopra coperta, questo chiostro, dà un'idea di questo bel volume, non solo tutto illustrato, ma commentato da questi due curatori, in modo particolare, lo storico dell'arte, Raimond Ursel. Ed ecco le chiese con le loro, con i loro manufatti, le vetrate, le rappresentazioni dei Santi, i monasteri, ancora le colonne, gli archi e il susseguirsi a volte degli stili, dei rifacimenti di questi monumenti che sono anche testimonianza del passare dei secoli e del mutare dei gusti nell'arte. Vedete, tutto il volume è non solo illustrato, ma anche arricchito da commenti che tengono conto della storia e dell'arte. Accostiamo, dalle edizioni carmelitane, di Pablo Maria Garrido, documentazione relativa all'antica provincia carmelitane di Castiglia, 1416-1836. Si può immaginare la ricchezza di questo volume che tiene conto naturalmente dei frati, dei superiori, dei personaggi, dei volumi, delle biblioteche, delle vicende storiche anche con le soppressioni, le donazioni, le ricostituzioni delle province. Andando avanti è cambiato ambiente e argomento da editrice universitaria di Trieste, le disfatte, quindi notate, tra virgolette, è plurale, le disfatte di Caporetto. Solitamente noi parliamo di Caporetto, della disfatta, invece sono diverse fasi successive, soldati, civili, territori, 1917-1919 e quindi, inquadriamo la copertina, questa disfatta di Caporetto fino alla vittoria e alla firma del Trattato di Pace a cura di Matteo Ermacora, a cura e dunque sono diversi interventi con diversi capitoli, qui abbiamo la violenza dei vincitori, violenza che naturalmente si consumano dall'una all'altra parte e abbiamo anche la propaganda di guerra e la propaganda di pace con accuse reciproche di violenza. In guerra non si guarda purtroppo in faccia a nessuno. E andando avanti una sezione artistica di Carla Boroni, figure bresciane nella cultura e nella letteratura fra 8 e 900, con saggio introduttivo di Armando Paccagnini da Gammarò. Brescia, la leonessa d'Italia, si può immaginare la ricchezza di figure, di imprese di ogni tipo, industriale, editoriale, letterario, fino a Paolo VI che veniva dal Bresciano e abbiamo alcune composizioni non sempre memorabili ma che danno conto appunto di un ambiente vivace, ricco, che ha dato poi luogo alla fondazione, ripetiamo, di case editrici, di riviste fino a tutta la nostra epoca contemporanea. Da Rizzoli, Filippo D'Averio, critico, storico dell'arte, anche personaggio estroverso e vivace, quattro conversazioni sull'Europa. E queste quattro conversazioni riguardano il sogno dell'Europa, un medioevo a colori, la culla dell'Europa, il settecento allegro, quindi si passa dal medioevo al settecento, musica e intrighi nelle corti barocche e in vino veritas, in cibo sanitas per arrivare all'attualità. E tutto il volume, ecco qui il quarto stato, viene illustrato con immagini emblematiche che riprendono la storia dell'Europa, delle corti, delle guerre, della religione. Qui naturalmente Francesco D'Assisi, ma anche i personaggi, il ritratto di Johann Christian Bach, quindi la musica. Ancora il cardinale Mazzarino o il re Sole. Possiamo qui inquadrare Luigi XIV in costume di Apollo. Vedete tutto il volume è illustrato, ma appunto le illustrazioni sono lumeggiate, sono illuminate, sono spiegate dai testi di Filippo D'Averio. Marcello Veneziani, Nostalgia degli dèi, da Marsilio, una visione del mondo in dieci idee. E queste dieci idee sono viste da Marcello Veneziani, che possiamo, come dire, connotare come intellettuale di destra, lui stesso sarebbe lieto di questa definizione. Vediamo dieci negazioni dalla patria. La mia patria è il mondo intero, dice il Cosmopolita. Il cielo è la mia patria, per l'Anastagora, per San Paolo e per gli internauti. Il mio tempo è la mia patria, dice chi si sente abitatore di un'epoca più che di un luogo. La patria è il mio passato, dice chi vede nella patria solo la sua genesi e la sua infanzia. La patria è dove mi sento a casa, dove trovo accoglienza, pane e lavoro, dice l'immigrato. La patria la porta con me o dentro di me, Seneca. La patria è l'estremo rifugio dei mascalzoni, dice Samuel Johnson. La patria è il mattatoio dei popoli, la patria è di loro signori, perché i proletari non hanno patria, naturalmente Marx. La vera patria è l'idea, dice Evola, caro a Marcello Veneziani. Una piccola sezione con un piccolo, prezioso volumetto, Mark Twain, lettera da Babbo Natale, con prefazione di Cristiano Ferrarese, già in copertina un'immagine di Mark Twain, che scrive questa lettera a Babbo Natale, qui dando un'immagine con le sue bambine. Poi una nota sul personaggio e questo delizioso, questa deliziosa lettera, con delle immagini di bimbi di Babbo Natale e si immagina appunto questo arrivo di Babbo Natale che viene aspettato da questi bambini. Da Feltrinelli di Massimo Recalcati, Mantieni il Bacio, lezioni brevi sull'amore. In copertina vediamo la Bergman in uno dei suoi numerosi famosi film e insieme ad altre pagine che non leggiamo in questa trasmissione, eventualmente le leggerete voi nel privato, abbiamo annotato qualcosa di leggibile Neruda. Non tamo come se fossi rosa di sale, topazio o freccia di garofani che propagano il fuoco. Tamo come si amano certe cose oscure, segretamente, entro l'ombra e l'anima. Tamo come la pianta che non fiorisce e reca dentro di sé, nascosta la luce di quei fiori. Grazie al tuo amore vive oscuro nel mio corpo il concentrato aroma che è scesa dalla terra. Tamo senza sapere come, né quando, né da dove. Tamo direttamente senza problemi né orgoglio. Così tamo perché non so amare altrimenti, che così in questo modo in cui non sono non sei, così vicino che la tua mano sul mio petto è mia, così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio sonno. E abbiamo il letto di Ulisse, quindi passiamo alla grande poesia classica, l'Odissea, il letto di Ulisse, il suo morbido letto stendili euriclea fuori dalla solida stanza, quello che fabbricò di sua mano. Qui stendete il morbido letto e sopra gettate il trapunto e pelli di pecora e manti e drappi splendenti. Vuole essere un tranello perché il letto di Ulisse non si poteva spostare, era piantato su un tronco ben infisso nel terreno e di lì Penelope capisce che Ulisse è tornato, è il suo sposo. Un'ultima annotazione, la prendiamo dalla introduzione che dà il senso del volume. Il titolo di questo libro nasce da un mio breve sogno. Il giorno precedente Arianna, la mia insegnante di Pilates, che da tempo mi aiuta a tenere in sesto la mia povera schiena, logorata da 30 anni, di preda della psicoanalisi, ma io ero sottoposta ad un esercizio particolare. Arianna, nel sogno, mi invitava in questa postura scomoda e naturale a mantenere il bacio tra le ginocchia, che la rotazione della gamba tendeva invece a disfare. Massimo mi diceva seriamente mantieni il bacio e avviandoci allegramente verso la conclusione, ancora due volumi, Davide e pensiero di Silvano Petrosino, il desiderio. Noi siamo figli delle stelle. Insomma, chi dice che siamo figli dei fiori? Chi dice che siamo figli delle stelle? Ma questo è un bel volume, vedete, le stelle del bisogno, la luce del mondo, la decostellazione del desiderio, la scena umana, dis astri, il desiderio dell'altro e poi a conclusione al di là delle stelle o addio. E allora vediamo di cogliere qualche punto di questo volume, una citazione da Antigone di Sofocle. Molte sono le cose strane e tuttavia nulla è più strano dell'uomo. Ancora Heidegger che viene molto citato in questo volume con brani da essere e tempo. Anche Levinas, un autore molto frequentato, così come Ernst Cassire, insomma un volumetto veramente molto dotto che su questo argomento del desiderio intesse una sua personale visione della storia, della filosofia. È da Ericsson di Mario Paolini, chi sei tu per me? persone, persone con disabilità e operatori nel quotidiano, come abbiamo sempre detto. Volumi molto pratici, molto chiari, leggiamo una citazione. Ha fatto irruzione con fuoga emotiva il termine diversamente abile, carico di ambivalenza e anche secondo noi di una certa dose di buonismo, con lo scopo di sottolineare le abilità, ossia le capacità delle persone disabili, ma anche la diversità, il che mette a posto la coscienza di chi non si sente affatto disabile ma normale. Il neologismo, più gettonato, si è trasformato con una crase assai ardita il diversabile, che sembra definire un soggetto ben preciso, dotato di potere e di abilità, una specie di Pokémon, come ha acutamente osservato un mio amico e francamente non si capisce quali problemi possa incontrare nella nostra società essendo così abile. Una nota coraggiosa è vera, questo nostro buonismo, chiamiamolo, di coprire in fondo con i termini quelli che sono problemi reali e poi andando avanti appunto come affrontare realtà, ripetiamo non con belle parole, queste difficoltà, queste diversità. Un giorno una mamma a conclusione di un colloquio in cui avevamo fatto il punto sull'intervento con suo figlio mi disse così, senta, io ho bisogno di dirle una cosa, mi va bene quel che fate, vedo che è seguito bene, ma perché quando parlate tra di voi dei ragazzi come mio figlio usate sempre la parola gravissimi, la stanza dei gravissimi, la mensa dei gravissimi, il guardaroba dei gravissimi, è mio figlio, capisco che usate un linguaggio tecnico, ma io sono sua madre. Ecco, non banalmente un cerchio, un colpo al cerchio e una alla botta, ma evitare sia il buonismo terminologico sia la crudezza scientifica. Dunque, chi sei tu per me da Ericsson? Il desiderio, non siamo figli delle stelle da vita e pensiero, da Feltrinelli, di Massimo Recalcati, mantieni il bacio, da Oligo, di Mark Twain, lettera da Babbo Natale, da Marsiglio, di Marcello Veneziani, nostalgia degli idee, una visione del mondo in dieci idee, da Rizzoli, di Filippo D'Averio, quattro conversazioni sull'Europa e da Gammarò, di Carla Boroni, figure bresciane nella cultura e nella letteratura fra 8 e 900. Da edizione universale di Trieste, le disfatte di Caporetto a cura di Matteo Ermacora, dalle edizioni carmelitane di Paolo Maria Garrido, documentazione relativa all'antica provincia carmelitana di Castiglia, 1416-1836, avevamo dato inizio a questa puntata con questo splendido I monasteri Fessero l'Europa di Raimond Ursel e Leo Moulin da Iacabuc, da Olschi, le chiese di Montefolloni, Quarta e Storia, a cura di Enrica Neri Lusanna, da Carocci, un volume a più mani, a cura di Marina Benedetta e Tommaso Subini Francesco D'Assisi, come bene dice il sottotitolo Storia, arte, mito, e dalle Dioniane di Bologna si è completata la serie dei volumi di Don Primo Mazzolari con Zaccheo. E veniamo a Mimep Docete, per concludere in bellezza, Ignazio di Antiochia, Policarpo di Sbirni, quindi siamo ai padri dei primi secoli e questo volume, come nel carattere di questa edizione Mimep Docete, hanno una introduzione comprensibile anche a chi non ha una grande conoscenza della storia e della letteratura e della chiesa dei primi secoli e poi i singoli brani, un'altra caratteristica, che sono introdotti per facilitare la comprensione. E chiudiamo davvero in bellezza con Isabella Morra, rime, a cura di Gianni Antonio Palumbo, stilo editrici. Ce ne siamo occupati qualche altra volta. Isabella Morra vive in Lucania, una Lucania selvatica, appartata. Per motivi politici il padre si rifugia in Francia. Lei si innamora di un aristocratico spagnolo. La tresca viene scoperta dai fratelli che la uccidono. Un delitto d'onore che non viene appunto punito. I fratelli scappano, se ne vanno via, la fanno franca. Dopo l'introduzione che ricapitola queste vicende, abbiamo i testi di Isabella Morra, i fieri assalti di crudel fortuna scrivo piangendo. E la mia verde etate, ma che in civile torride contrate, spendo il mio tempo senza loda alcuna. Degno il sepolcro, se fu villa cuna, vo' procacciando con le muse amate. E spero di trovare qualche pietate, malgrado della cieca ascra e importuna. Et col favor delle sacrate dive, se non col corpo, almen con l'alma sciolta, essere in pregio e più felice rive. Questa spoglia dov'or mi trovo involta, forse tale alto re nel mondo vive, che in sal di marmi la terrà sepolta. E via di questo passo, con queste composizioni, d'un alto monte, onde si scorge il mare, miro sovente io, tua figlia, Isabella, se alcun legno spalmato in quello appare che di te padre e me doni novella. Ma la mia adversa dispietata stella non vuol che alcun conforto possa entrare nel tristo corma di pietà rubella. la calde speme in pianto fa mutare. Ch'io non veggo nel marremo né vela così deserto e l'un felice lito che l'on defenda o che la gonfi il vento. Contra fortuna l'or spargo querela, et ho in odio il denigrato sito come sola cagione del mio tormento. Ci sono anche alcune composizioni, diremmo, meno notevoli del suo amante, ma ci minacciano. Dobbiamo chiudere, il tempo concesso ci è scaduto. Allora grazie e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.